Amici dei social, buonasera, è arrivato il momento di fare questo video perché è l'ultimo giorno che io indosserò questo cappellino e questa maglietta. Non c'è con me Diego Bercassi che è l'editore di Valsiriana News perché lui farà le sue considerazioni in autonomia. Voglio essere molto breve, sono stati nove anni stupendi e non mi nascondiamo, gli ultimi tre anni sono stati molto difficili dal punto di vista non tanto del sostegno dei nostri lettori ma dal punto di vista di far quadrare il bilancio di un giornale online gratuito ma che ovviamente nella produzione dei contenuti che avete letto, che avete visto ha avuto dei costi importanti. Per cui appunto da oggi è la notizia che tutti voi avete letto, quindi non indosserò più questi perché verso, per i nostri dieci anni, mi aspettano tante sorprese. Io veramente mi scuso per questo pesce d'aprile che non avrei voluto come tutti gli altri ma visto che Diego tra i due è la mente malefica, anzi vi vogliamo ringraziare per tutto l'affetto, ci sono arrivati messaggi da ovunque veramente, noi invece ci apprestiamo a compiere il nostro decimo anno di apertura di www.valseriananews.it e vedrete tante sorprese, logo rifatto, sito rifatto, ovviamente abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi, non solo lettori ma anche sponsor, anche sostenitori perché è difficile, ma noi, qui lo dico e poi vedremo, non chiuderemo mai. No, non riesco. Non ce la faccio, ce la faccio. Ci siete abboccati, no? Ma aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, allora. Salve, buongiorno. Devo farmi i complimenti a Jessica Costanzo perché ha saputo interpretare benissimo il finto pianto, Jessica. voleva andare alla sette, invece gli ho alzato, gli ho fatto l'aumento, insomma, segno in bianco, ok. Allora, trovare un pesce ad aprile non è mai facile, no? Diciamo che la mente, l'ha detto anche lei, sono un po' io, sono scherzoso, lei è un po' più seria, io devo fare la parte di quello che scherza un po', insomma. Ci è capitato qualche anno fa di fare degli scherzi un po' pesanti e addirittura le forze dell'ordine ci avevano richiamato, no? Quest'anno abbiamo pensato, facciamolo su di noi, è sempre una forma di pubblicità. Quindi, signori, allora, vi mando l'Iban immediato, ok? Fate un'offerta, fate quello che volete, anche, cioè ragazzi, anche senza fattura, ma va bene, qualsiasi roba, né? Ok, non guardiamo, no, vabbè, a parte gli scherzi, siamo a pesce ad aprile, dobbiamo fare lo scherzo. Insomma, siamo quasi dieci anni, eh, sono quasi dieci anni, le rughe si vedono, però adesso sto facendo il trattamento anche per i capelli, speriamo funzioni. Insomma, allora, ci saranno delle belle novità, ad agosto festeggiamo i dieci anni di questa idea, di questa nuova, di questo nuovo, ormai non più, di questo giornale online di Valseriana News che abbiamo inventato nell'agosto del 2013. Ovviamente sempre io e Jessica, lei se ne voleva andare, aveva ricevuto delle offerte importanti, addirittura la, come si chiama quella lì, la BCC, la mia BCC, la DNC, la ZYJ, insomma, Tel Aviv, un po' di tutto, lei ha avuto richieste a tutto il mondo con la questione del Covid, però ha preferito restare ancora in valle, in valle io ci resto, ci resterò per sempre. Ecco, mi raccomando, probabilmente faremo pagare dall'anno prossimo la lettura. Ma dai che scherzo, no? Ma non fa... Allora, signore, non possiamo far pagare, non si fa pagare mai nulla, però se qualcuno vuole fare l'offerta, noi ci siamo, eh? Ok? Grazie, scusate per il pesce d'abrile, però ci sta. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.